Si aggrava la carenza di medici, chirurghi, specialisti, esperti dell'emergenza e poi i dottori di base. I numeri che emergono dall'ultimo report dell'Agenas, l'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali, sono agghiaccianti. Gli ambulatori di medicina territoriale chiudono al ritmo di mille all'anno. Chi va in pensione non viene sostituito. La Federazione dei Medici di Medicina Generale lancia l'SOS. Nei prossimi cinque anni è prevista un'emorragia di 45.000 unità e 14 milioni di italiani si ritroveranno senza dottore di base. Sta accadendo quello che noi avevamo detto da anni. In Italia la programmazione è qualcosa di sconosciuto. Bastava vedere, noi lo vediamo come sindacato, abbiamo la gobba, cioè il grosso dei medici di famiglia è nato negli anni 50. Poiché noi andiamo in pensione anche a 70 anni, nel 2022 sono andati in pensione i nati nel 1952, l'anno prossimo il 1953. E la gobba pensionistica è esattamente relativa a quegli anni. Noi sappiamo che il boom, il top, si toccherà fra due anni, nel 2024. Fino a quel momento avremmo più medici in uscita che medici in entrata. E su questo andavano fatte alcune considerazioni, perché mancheranno medici di famiglia, mancheranno pediatri, mancheranno chirurghi, mancheranno medici in tutte le specialità. Questo è un grossissimo problema. Si comincerà a vedere in alcune zone di Roma, per esempio le zone più periferiche, le zone più difficili, comunque diciamo. All'origine del problema, la programmazione del numero di posti disponibili nelle facoltà e le poche borse di medicina generale. Come si poteva arginare? Si poteva arginare facendo delle proiezioni e togliendo o razionalizzando il numero chiuso all'università. Invece il numero chiuso è stato ancora mantenuto. Addirittura quest'anno mi dicono che i quiz d'entrata erano particolarmente difficili. E' ovvio che chi entra oggi sarà disponibile, ma almeno fra sette anni, sul mercato, tra virgolette. Quindi il grosso problema è questo della programmazione. Quindi bisogna rivedere un po' questo meccanismo di accesso alla professione. Grazie. Grazie.